C'è bisogno di una rivoluzione che parta prima di tutto dalla mentalità dei cittadini e degli automobilisti. Poi si possono fare tutte le riflessioni sul nuovo piano generale del traffico urbano a Salerno che comunque presenterà tante novità. A Salerno cambieranno alcuni sensi di marcia, un paio di rotatori e quattro snodi principali subiranno delle modifiche per evitare il congestionamento e le ore di punta. Riflessioni saranno fatte anche sulla lungo irno e del trincere onesta ed ancora un cambio radicale del trasporto pubblico con meno corse e più punti toccati in tutta la city. È stato presentato questa mattina nella sala del gonfalone del comune di Salerno il piano generale del traffico urbano, redatto dal Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Salerno e illustrato dal professor Stefano De Luca. L'assessore alla mobilità, Mimmo De Maio, ha provato a dare qualche anticipazione. Il piano sarà operativo dal momento dell'approvazione. Ciò non toglie che anche delle anticipazioni rispetto a delle priorità che si registrano e che lo studio dell'Università ci rassegna, possano essere messe immediatamente in campo. Chiaramente quelle più legate a partire dalla priorità del flusso veicolare. I nodi che sono stati registrati, si ascoltano soltanto delle valutazioni da parte dell'Università, ma anche poi dalla pratica dell'attività che svolgiamo quotidianamente, possono avere sicuramente dispositivi che aiutano a risolvere nella condigenza alcune problematiche. Poi c'è tutto il resto, perché abbiamo chiesto, forse lo diceva lo stesso professore De Luca prima, che questo studio possa guardare anche un po' più avanti, anzi è quasi vicino a un pum, su un piano più articolato, che detta anche prospettive per scenari futuri, il rapporto col sistema del trasporto pubblico locale, il sistema della sosta, anche il sistema dei collegamenti con le piste ciclabili, fino ad arrivare a quello anche con i percorsi pedonali, che vengono valorizzati attraverso sistemi, quelli anche per esempio del pedibus, oppure dei collegamenti, diciamo, delle passeggiate segnalate, non passeggiate, collegamenti, che dimostrano che si può arrivare da un punto all'altro della città, senza particolari disagi, quindi un lavoro complesso, però noi immaginiamo di partire sin da subito dai nodi di criticità che sono stati evidenziati. Sono noti a partire in particolar modo l'asse fondamentale della lungo Irno, che doveva trovare finalmente sulla scorta di questi studi una sua entrata in vigore come asse di mobilità e di collegamento definitiva. Oggi noi la fruiamo francamente parzialmente, perché la parte a sud che va verso via Torrione è fluida in un senso, nasce con l'arteria per garantire un attraversamento trasversale nord-sud della città e quindi dobbiamo capire come metterla in esercizio, però anche capire che cosa succede al contorno di questa importante arteria, via Igno, via Sittimo Mobilio, via Sivio Baratta, non solo, ma via Dalmazia da un lato, e quindi tutto il sistema che si può determinare nel sistema della mobilità sulla scorta di questi dispositivi che andremo a introdurre, perlomeno andremo a valutare per poi introdurre. E' proprio questo il dato che ci viene rassegnato dallo studio. Valuteremo, in funzione delle priorità alle quali prima facevo riferimento, nuovi dispositivi anche per quanto riguarda i sensi di marcia, e capire vantaggi e svantaggi che si registreranno. Questo però limitatamente a flusso veicolare. Molto probabilmente dovremmo mettere, per esempio, dei dispositivi fissi per meglio canalizzare i flussi nei luoghi in cui registriamo maggiore difficoltà. Questo ci aiuterà insieme alla presenza, dove dovremmo rafferciare la presenza di uomini da parte del colpo di Polizia Municipale. Ecco, questo studio ci aiuterà a governare meglio questo, anche se il tema fondamentale, io credo che sia quello legato ad una mobilità intermodale. Proprio per questo ne abbiamo avuto anche incontri nell'ambito di questo studio con i responsabili di Bus Italia, perché chiaramente cambia la città, cambiano le esigenze, cambiano le priorità, deve cambiare anche molto probabilmente il sistema di collegamento del trasporto pubblico collettivo, che ferma quello che io ricordo da quando ero un po' più giovane rimasto lo stesso, ma nel frattempo la città è cambiata. Grazie a tutti.